Sì, è finita la batteria, c'è la memoria Sì, è finita la batteria giralo, giralo, così, 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 faccia indietro adesso, vale, tutti bene con le gambe a 4, gira, riprendi posizione, dai, 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 bravo, messa l'acqua, metti l'acqua, Il braccio adesso, dai, tirala, vai montata, veloce, tirala, vai montata, vai montata, vai montata, vai montata. Sì, sì, dai, dai. Giro. Dai, 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 dai. Brava, Max. Grazie.